Puntatina di relax questa, abbiamo già fatto una bella galloppata, tiriamo un po' il fiato, diamoci il tempo di fare le nostre prove, di ricostruire magari da zero i progetti, perché è un conto essere guidati, è un conto ritrovarsi in acqua ed imparare a nuotare. Ci sono alcune estensioni alla classe string che ha preparato Giovanni, utili un po' in tutto il progetto, in tutta la soluzione, e avevo già accennato questa first upper, che sostanzialmente ricombina la stringa isolando il primo carattere, mettendo il minuscolo e riagganciandolo al resto della stringa. Non è l'unica, vediamone qualcun'altra. Il file è quello che trovate nella cartella share, per i motivi che ho appena detto, nel sorgente string extensions. La successiva all first upper applica il maiuscoletto, ogni parola nella string inizierà con la maiuscola, si inizia prima con il separare con lo split sul carattere separatore spazio ogni parola di quella stringa, alla quale viene applicata la first upper, che è già disponibile, per poi ricomporre il tutto col join nella stringa come la vogliamo. Empty to null. Questa funzione è utile quando abbiamo a che fare con campi del database di tipo string, che accettano anche il null, cioè non sono obbligatori, insomma. Cosa potrebbe capitare? Che, immaginiamoci al lavoro con una form, l'utente serve qualcosa nel field della form corrispondente a quella colonna, e il dato è giustamente nullable, string col punto di domanda, e dopo aver scritto qualche cosa ci ripensa e cancella tutto. Il campo resterà una stringa vuota, questo sì, ma non null. Con questa funzione, usata invece nel DTO, corrispondente, il valore tornerà automaticamente a null. Non c'è bisogno che vi spieghi cosa fa l'only numbers, ok? Spazza via tutti i caratteri che non siano numeri. La stringa viene prima scomposta nell'array dei suoi caratteri, e poi filtrata con l'inq e il where, che selezionano soltanto i caratteri, con un valore di ordinamento compreso tra la cifra 0 e la cifra 9. Il risultato viene prima ricompattato in un array, e poi restituito come stringa. Facile, no? Anche capire dove potrebbe essere utile una funzione di questo tipo, nell'inserimento di un numero telefonico o di un CAP. In un gestionale di qualunque tipo sono immancabili controlli quali, ma quello che è stato scritto qui è un email, indirizzo email accettabile, oppure una partita IVA o un codice fiscale. Iniziamo intanto con l'email. Questo è il metodo, che va a braccetto con questo codice, in cui noterete che stiamo semplicemente dichiarando l'intestazione del metodo email regex invocato sopra. E l'implementazione vera e propria sarà invece demandata al compilatore. Ecco perché si parla di metodo parziale, quel partial regex. E per la generazione del codice sarà utilizzato l'attributo generate regex, che specifica appunto il formato sintattico dell'espressione regolare. E non è facile ottenere una regex perfetta, per un indirizzo email intendo. E questo perché lo standard di riferimento è veramente molto tollerante e vario, articolato riguardo il formato di un indirizzo email. E mi pare che abbiano addirittura dimostrato che sia impossibile ottenere una regex perfetta, omnicomprensiva, in tutti i casi possibili e immaginabili. Giusto qualche dettaglio in più per chi è curioso, per chi magari non è mai incappato in regex o quantomeno regex così complete. Si nota subito la chiocciola che va a separare la parte di sinistra e di destra. La parte di sinistra sarà composta da una stringa che inizia con un qualunque carattere alfanumerico e poi sono tollerati anche i caratteri tipo il trattino e il punto. E questa parte non può essere vuota, ci deve essere almeno un carattere. È la pretesa di quel più nel formato della regex e poi naturalmente tutti quelli che si vuole in realtà. Poi la parte che riguarda il dominio e il sottodominio, dove vengono riconosciuti due possibili formati. Una prima parte che può essere o sottoforma di indirizzo IP, le prime tre cifre, da 0 a 9 come caratteri e da 1 a 3 come lunghezza, 178.43.1.un altro punto il terzo o il formato alfanumerico. Qualunque sequenza di caratteri, col trattino, eventualmente il punto. E che deve terminare, è il senso del dollaro, se non ricordo male, con una parte o alfanumerica da 2 a 4 caratteri, .it, .com, .org, .wiki o .food, .shop, 4 lettere insomma. Oppure, di nuovo, l'operatore di variante, il completamento in formato numerico, l'ultimo quartetto. Molto più agile, la regex per il riconoscimento di un codice fiscale, che deve iniziare con un gruppo di 6 caratteri alfabetici, due numerici, poi una lettera, due cifre numeriche, un'altra lettera, è la parte finale, percorrete mentalmente il vostro codice fiscale, di 150, quindi tre cifre, e il carattere di controllo con cui deve chiudersi il codice fiscale, che è una lettera da a z. Immagino anche che abbiate riconosciuto l'utilizzo di specificatori come l'accento circonflesso, che anche nelle specifiche, ad esempio, dei selettori CSS, significa inizia per, o il dollaro finisce per. Cioè, sarà il contrario, che per definire la sintassi CSS, si sia rifatti a quella delle regex. Liscia liscia, la regex per la parte IVA, 11, cifre numeriche. Prima, andiamo avanti, un avvertimento da parte di Giovanni. Visio Studio, l'inserimento di questo codice, in effetti potrebbe darvi un errore, ma basta compilare. Una volta che il compilatore avrà generato il codice per l'email regex, potremmo usarlo qua, per restituire lo stato del tentativo di unificazione, di match, tra quell'espressione regolare e ciò che sarà stato inserito come email. E a questo punto, un gioco da ragazzi, introdurre anche il metodo per controllare se abbiamo a che fare con una partita IVA o con un codice fiscale. Come esempio d'uso, Giovanni ci propone questo. Siamo sempre nella cartelletta Share, nel progetto Application DTO, nel sorgente Studente DTO, per l'operazione di post. E qui come utilizzare una delle estensioni che abbiamo preparato. E nello specifico potrebbe capitare che un nominativo sia multiplo come parole. Paolo Giovanni, similmente per i cognomi, come De Rosa, All First Upper. E forse vi starete chiedendo, ma perché non sta usando il metodo con la regex appena descritto? Perché controllo del codice fiscale, ci suggerisce Giovanni, è preferibile farlo con il meccanismo di validazione che andremo a completare in seguito. L'unica cosa che potremmo fare sarebbe cancellare quel valore, se non è un codice fiscale, ma nella form l'utente che la sta compilando potrebbe rimanere un po' disorientato, perché scriverebbe un codice fiscale sbagliato, vedrebbe subito sparire la scritta, ma senza capire quello che sta succedendo, perché il programma apparentemente gli sta tirando un brutto scherzo. Usando invece un validatore, che sarà lo stesso nella form and client, come quello utilizzato dal controller sul server, in automatico avremo una gestione completa, perfetta, con tanto di messaggio d'errore. Direi che ci possiamo anche fermare, nel prossimo capitolo parleremo di automapping, cioè di una tecnica che vuole rendere automatica la conversione tra oggetti dei due livelli domain e DTO, e chimere ad evitare che si sia noi a copiare in modo esplicito le proprietà da un oggetto all'altro. Insomma, vogliamo qualcosa che faccia una mappatura, appunto, automatica. A risentirci.